Brindisi sul palcoscenico politico internazionale per il G7 sono attese le delegazioni di capi di stato e di governo di 15 paesi e la presenza di Zelensky rafforza l'ipotesi che a Borgognazia i grandi della terra lavoreranno anche per la pace nel cuore dell'Europa, devastato dalla guerra da oltre due anni. Di pace ha parlato il vicepremier Matteo Salvini a margine di un incontro con il sindaco di Brindisi sul futuro della decarbonizzazione. Di pace continua a parlare Papa Francesco che parteciperà in presenza alla sessione del G7 dedicata all'intelligenza artificiale. Il livello di allerta quindi è massimo, prova ne è il fatto che il ministro dell'interno Matteo Piantedosi arriva a Brindisi per presiedere il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza quando mancano nove giorni all'inizio del forum intergovernativo presieduto dall'Italia. Con Piantedosi anche il capo della polizia Vittorio Pisani, il capo di gabinetto del ministro Maria Teresa Sempreviva, il capo del cerimoniale della presidenza del Consiglio dei Ministri Francesco Piazza, così come il capo della delegazione per la presidenza italiana della G7 Nicola Lener e il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana della G7 Fulvio Maria Soccodato. Off-limits per motivi di sicurezza sarà la zona del Castello Svevo in vista del 13 giugno quando si svolgerà la cena inaugurale. Per delimitare la zona che sarà blindata già dal giorno prima, il comune di Brindisi tramite la polizia locale ha noleggiato 250 transenne in ferro zincato per 48 ore al prezzo di 2.900 euro oltre IVA. Faranno da barriera per chiudere gli ingressi delle strade. Quanto alla sistemazione dei cartelli stradali, l'amministrazione delegato e il personale della multiservizi. Gli artificieri intanto sono al lavoro per ispezionare tutti i tombini. La città è stata suddivisa in quei zone per l'esecuzione degli interventi di bonifica, stando a quanto si legge nell'ordinanza con cui il dirigente dell'ufficio traffico del comune ha disposto i divieti di sosta e fermata per tutti i veicoli con rimozione. Per motivi di sicurezza non sono state rese note le strade in cui si svolgeranno i controlli. Finiti, i tombini saranno sigillati.